Otto persone sono state denunciate ieri dalla Polizia di Stato nel corso del servizio di controllo del territorio. Un sorvegliato speciale è stato denunciato dagli agendi per violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione, cui si trova attualmente sottoposto. Un arrestato domiciliare è stato denunciato per evasione, poiché al controllo non è stato trovato in casa. Due persone sono state denunciate per porto di armi ad oggetti, atti ed offendere. Il conducente di un'auto risultato positivo al drug test è stato denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Un denunciato per atti persecutori, uno per maltrattamenti in famiglia e l'ultimo per furto in appartamento.